Alcuni eventi pubblici che si svolgono a Milano hanno richiamato l'attenzione sul tema dell'ambiente e la necessità di non inquinare l'aria con emissioni nocive nel consumo e produzione di energia, non solo elettrica naturalmente, e hanno quindi riportato anche alla ribalta alcuni dei giovani che sono diventati sostanzialmente delle star globali su questo tema. Però queste discussioni pubbliche hanno una stranezza. La stranezza è che si contestano i governi, si diceva voi fate solo parole, non c'è sostanza nella vostra azione, si contestano i governi della parte del mondo che ha già deciso di camminare verso l'emissione zero, quindi verso l'abbattimento dell'inquinamento e in particolar modo delle emissioni dei gas CO2. Cioè in realtà in questa nostra parte del mondo, la parte del mondo ricco, quelle teorie, anche quei desideri, hanno già vinto. Certo, il cammino da qua al 2050, con tappe nel 2030, nel 2035, è un cammino non facile, è un cammino che richiede impegni, è un cammino, tanto per capirsi, che in questi giorni in Italia si discute dell'aumento delle bollette. Ma certo, ma se noi cancellassimo dalle bollette tutti i contributi per la creazione dell'energia verde, ma noi pagheremo molto meno per consumare energie elettriche e gas. Noi paghiamo di più anche per i contributi. Se producessimo energia e gas solamente, diciamo così, bruciando per l'appunto petrolio, combustibili fossili, gas, avremmo una bolletta energetica più bassa, ma avremmo un inquinamento molto più alto, quindi una disfunzione e quindi poi ulteriori problemi. Quindi abbiamo scelto questa strada. Che la contestazione sia tutta concentrata in questa parte del mondo che si è già messo su questa via, insomma, ha una sua particolarità. C'è un'altra parte del mondo che invece non ha su questa strada. Da una parte c'è la grande potenza cinese, che non è vero che non abbia sensibilità all'ambiente, ce l'ha, però ha anche una necessità energivora, una necessità di consumare energia molto più alta di quanto non si faccia dalle nostre parti. E poi c'è un mondo che è sottosviluppato, che di energia ne consuma troppo poca e che di sicuro non si può né suggerirgli di risparmiare, visto che è considerato che ne hanno già poca, né suggerirgli di passare subito alle fonti che sono più costose e quindi necessariamente non se le possono permettere. Quindi è un discorso interessante, ma forse va fatto in me la più complessiva. Si potrebbe approfittare della presenza e della sensibilità di tanti giovani per porre dei problemi, porre dei problemi che i loro padri non sempre sono stati capaci di affrontare. Tanto per dirne una. Noi vogliamo avere fonti che non inquinino, che non producano CO2. Non possiamo sperare di produrre tutto senza CO2 già domani mattina, perché non siamo nelle condizioni, ma possiamo tendere a farlo. Per camminare su questa strada non è che possiamo andare negli Stati Uniti a barca a vela, Greta se ne faccia una ragione, perché questo diventerebbe un trasferimento delle persone non elitario, pazzescamente elitario, cioè si muovono solamente i miliardari. No, abbiamo delle altre possibilità, abbiamo altre fonti che possiamo integrare. Una di queste è l'energia nucleare. Sono già inorriditi? No al nucleare. Ma non si può volere energia abbondante senza emissioni di CO2 e cancellando le fonti che la producono senza emissioni di CO2, perché è irragionevole. Quindi questo è un tema che deve essere posto. L'altro sistema che abbiamo, per cercare in qualche modo di rimanere a galla, è quello di spremere molto sulla ricerca relativa alle batterie. Perché? Perché l'energia, quella ambientalmente più compatibile, come per esempio quella eolica o quella solare, però siccome non c'è sempre, non c'è in continuazione, e io invece l'energia elettrica la utilizzo in continuazione, le macchine elettriche le ricarico in continuazione, cosa faccio? La macchina la ricarico durante il giorno e poi la posso utilizzare la notte quando il sole non c'è, non ha molto senso. Quindi ho bisogno di alti consumi, più alti consumi di energia elettrica, ho bisogno delle batterie per immagazzinarla. Ma la ricerca per le batterie non è che poi sia pulitissima, richiede molta attenzione ambientale perché poi vanno smaltite. La parte sul nucleare si dice sempre, dice, ma poi che ne facciamo delle scorie? Perché ne facciamo delle scorie della medicina nucleare? O pensiamo di cancellare anche quella? Il tema ambientale è un tema molto serio, molto bello, che può essere fonte anche di futura ricchezza, non di penuria e di un'economia penitenziale, ma forse qualche bla bla in meno sarebbe meglio da parte di tutti.